Don Mario Pasqua, la comunità parrocchiale della Madonna del Carmine è in festa perché tra poco si celebra la solennità della titolare, un momento di grazia ma soprattutto il messaggio di quest'anno, un messaggio di pace. Sì, quest'anno con la comunità abbiamo voluto dare proprio questo messaggio, Maria Donna di Pace, ecco come ho scritto una lettera insieme alla comunità, a tutta la comunità, a tutte le famiglie, proprio per quello che stiamo vivendo in questo momento così difficile, tra guerre, abusi, omicidi, violenza. Ecco proprio questa mattina abbiamo appreso una notizia di questa casa degli anziani dove sono perse tante vite e allora abbiamo voluto proprio impostare proprio questo sul dono della pace. I festeggiamenti che facciamo, come già abbiamo iniziato proprio dal lunedì, 3 luglio, con questo appuntamento, che è un appuntamento dove affidarci alla Madonna come titolo e buongiorno alla Madonna, è un momento di preghiera dove vogliamo iniziare la nostra giornata affidandoci a lei. E poi tanti momenti di preghiera, adorazione, musiche, preghiere, concerti, che ci aiutano a pregare, come dice Sant'Agostino, chi canta prega tre volte. Ci sono alcuni momenti importanti con vari cori. Il giorno 15 ci sarà la presenza di un sacerdote, amico di seminario, don Antonio Landi, biblisti, e dove la sera faremo il canto della Catistos e poi la Chiesa resta aperta tutta la notte e dove ci metteremo in adorazione. Ecco perché Maria ci porta al suo figlio Gesù presente nell'Eucaristia. E poi i giorni della festa, come tutti abbiamo letto dal programma, i vari appuntamenti. Inizieremo dalle sette del mattino con la prima messa fino ad arrivare poi a sera con l'ultima messa alle ore 19. È proprio una cosa bella che mi ha colpito che l'Arcivescovo ci ha mandato un messaggio proprio lui, facendoci gli auguri di questo tempo estivo, di tutto quello che le comunità stanno vivendo, ha voluto concludere con un messaggio di pace. Vi auguro che il tempo che stiamo vivendo, che tutte le attività, sia un tempo di pace, essere tempo di pace, la pace nel cuore, la pace nella relazione, la pace nei luoghi che abitate e che le vostre vite condivise siano semi di pace gettati lungo le strade di questa nostra diocesi di Napoli. E ci fa un augurio proprio di pace, come dicevo all'inizio, di tutto quello che noi stiamo vivendo. Invece il suo personale augurio e il suo messaggio di quest'anno alla comunità, di questa chiesa, di questa parrocchia, della città e del quartiere che insiste nelle pertinenze di questo storico edificio religioso. auguro a tutta la comunità di Torre del Greco, in questi momenti storici, in questi momenti così difficili, di avvicinarsi alla preghiera, di avvicinarci a lei. Seguiamo Maria, lei che è la stella del mattino, lei che è la stella della speranza e questo è l'augurio che io faccio a tutta la mia comunità, alla città, ma a tutti noi perché possiamo vivere questo tempo di grazia.